Io ho Doggy Pop sul posto, ho appena finito di mangiare, ho il testo in mano, tutto scritto perché non mi ricordo il testo a memoria, oggi è l'ultimo giorno, siamo al 28 e il concorso scade domani, Contest Seed Studio. Ok, grazie per la traccia, grazie a Marjo per il video che c'è la sua reflex qua davanti, possiamo cominciare, la base dall'inizio, 12 barre come stabilito. Case indecifrabili su frasi pratici, con geni sotto chiave calici, divino cadici, all'interno sadici, strumenti classici, momenti spenti dall'uomo di Pradeci, sottoponiamo acquisiti isterici, credici, tredici apostoli al posto di proporci accordi, accorci vite e contaci che stacchiamo spine senza accorgerci, restaurando slanci logici e provaci a corrompere i più forti e scogiti, scorciatoie per la psiche e virus difettivi, come quattordici, argomenti tossici, tossici se in ali liquidi della Majestic 12. Yo, Doggy Pop sul posto, ok bella raga, yo.